buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano e oggi ci sono novità sono novità perché siamo siamo all'arrivo siamo la fase finale della trattativa siamo in chiusura poi ci sono anche altre trattative a cui manca ancora qualcosina ma oggi vi parliamo innanzitutto della trattativa che si sta per chiudere in tempi più brevi del previsto quindi prima di entrare in merito ragazzi come sempre iscrizione al canale un bel mi piace condividete il video commentatelo dicendomi la vostra attivate la campanella delle notifiche e condividetelo mi raccomando fate tutte queste cose perché è veramente fondamentale allora oggi parliamo di una trattativa che si era entrata nel vivo si c'era stato uno sprint ma oggi oggi siamo già vicini alla chiusura probabilmente già nelle prossime 48 ore si potrà chiudere del tutto l'acquisizione le prestazioni di questo giocatore e ora vi parlo di chi è ovviamente se qualcuno di voi ancora non l'ha capito non l'ha capito si l'avete capito è todiboh todiboh alla juve arriva il momento della chiusura dell'affare perché il nizza apre alla formula gradita da giuntoli giuntoli ovviamente prepara l'offerta il club francese avrebbe aperto la possibilità di sedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto un'apertura importante che porta questa settimana ad essere quella decisiva per l'affare quindi todiboh vuole la juventus vuole solo la juventus che succede il nizza voleva un trasferimento a titolo definitivo e invece si apre a un prestito con obbligo di riscatto ma un prestito oneroso il prestito oneroso è di circa può essere un prestito tranquillamente di circa 8 10 milioni di euro che vuol dire vuol dire che diventa quasi in pagamento di una metà del giocatore fondamentalmente perché sì il giocatore si parlava di 35 milioni di euro ma data la volontà di trasferirsi alla juventus del giocatore e la non volontà di rimanere a nizza sai devi anche fare i conti con la volontà del giocatore no quindi che succede succede che il prezzo inevitabilmente va un po a calare quindi si parla addirittura circa 25 milioni con la juventus che prenderebbe il giocatore pagandone quasi la metà subito e poi il resto nei prossimi due esercizi o direttamente tutto nel prossimo esercizio ci può anche essere un inserimento di una contropartita ma questo è tutto da vedere ad oggi se la juventus piazza subito un colpo tra su lei e federico chiesa o qualcun altro il giocatore già è già bianconero allora le altre due trattative una è una trattativa l'altra è più un'indiscrezione però è giusto parlare di tutto perché tante volte passano in sordina certe notizie e cominciamo con la seconda trattativa che è copminers anche quella è una trattativa che è già tutto fatto cioè la juventus aspetta solo di avere almeno 50 milioni da poter mettere sul piatto dell'atalanta con 50 milioni messi sul piatto quando nessun'altra squadra si è avvicinata a tale cifra neanche della premier league già l'atalanta potrebbe cominciare a vacillare e non rischiare di tenerselo scontento insoddisfatto e rischiare il prossimo anno faccia una stagione che lo svaluti un po anche perché insomma non è che tutti gli anni vinci l'europa league o tutti gli anni fanno delle prestazioni in quel modo a livello di giocatore singolo quindi copminers alla juventus è fatta si sta aspettando semplicemente la l'ufficialità dell'offerta la proposta ufficiale della juventus altra notizia notizia molto 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 importante molto importante il nuovo attaccante della juventus il vice vlaovic la juventus sta cercando un vice vlaovic che nel futuro possa diventare anche il vlaovic ovviamente con caratteristiche diverse che si adattano di più alla alla visione della squadra che ha tiago motta la visione dell'attaccante a tiago motta la vlaovic è un patrimonio per tiago motta mano se avesse dovuto comprare un attaccante non avrebbe comprato dusan vlaovic perché non è quel prototipo di attaccante che piace a tiago motta cioè gli piace perché è forte ma se potesse scegliere lui avrebbe scelto sicuramente altro quindi quello che potrebbe sostituire vlaovic in questo momento a fargli da secondo e poi probabilmente se non si rinnova vlaovic va via potrebbe anche subentrare al posto di vlaovic può essere proprio matteo retegui perché video retegui perché tra la juventus e il genoma come vi ho sempre detto ci sono rapporti ottimi perché il giocatore ha manifestato l'interesse di andare di fare un salto di qualità giuntoli e la juventus sono sempre manifestato interesse verso il giocatore già dallo scorso anno e retegui è quel giocatore che si costa tantino perché ne vuole 20 vuole 20 circa 25 milioni il genoma per prenderlo ma che allo stesso tempo secondo molti addetti ai lavori alla juventus potrebbe fare quel salto di qualità definitivo per consacrare l'attaccante io vi dico la mia su retegui so che ci potrebbe essere anche come un paio di contropartite tecniche tipo muaremovic mi pare si chiami così non mi voglio dire una cagata perché fatemi vedere il nome perché se no qua ragazzi muaremovic mi pare muaremovic mi sembra di sì ora non lo ritrovo ragazzi non lo ritrovo no non lo ritrovo però questo giocatore potrebbe essere inserito come contropartita perché il genoa è molto interessato a a tale giocatore a tale giovane sappiamo no la juventus col genoa le trattative che hanno fatto sui giocatori della next gen e fondamentalmente a genoa hanno sempre reso la juventus ha incassato quei due soldini in più e quindi va tutto bene come the winter no the winter tanti di voi dicevano ma è da tenere da te ragazzi ma non sono giocatori da juve sono giocatori buoni giocatori ma per le squadre di medio bassa classifica il genoa ci si fa una fortuna con quel giocatore perché come con dragus in l'ha preso dalla juventus a poco l'ha rivenduto a a tantissimo e juventus ha ripreso una percentuale sulla futura rivendita ma quelle sono operazioni che servono anche al squadre come il genoa per auto finanziarsi quindi non è da escludere un retegui entro la fine del mese di agosto agosto e non luglio e siamo ora agosto quindi alla fine del calcio mercato un arrivo alla juventus anche perché bisogna vedere quali saranno gli acquisti effettivi davanti per la juve c'è il ballottaggio sancio ad e jemi come sapete c'è l'ipotesi spuntata negli ultimi giorni galeno c'è anche la possibilità che chiesa possa rimanere accettando un rinnovo ponte di un anno alle medesime cifre della scorsa stagione o di quello che percepisci ora però sono voci sono indiscrezioni io ripeto secondo me chiesa alla fine andrà via perché sennò si creerebbe un grandissimo guaio stiamo a vedere stiamo a vedere quello che può succedere nelle prossime ore sicuramente noi vi terremo aggiornati mi raccomando iscrivetevi al canale e fate tutte le cose like condivisione commenti attivate la campanella le notifiche poi qui in descrizione c'è il link del nostro sito web il link del nostro secondo canale youtube dove parliamo di calcio in generale ci sono i nostri link dei social network quindi di instagram di twitch di x abbiamo tutto qui sotto quindi quando vi va andate sotto cliccate e vi fate un bel giro nei meandri del di tutti i social network del globo toscano ragazzi vi ringrazio vi auguro un buon inizio settimana un buon lunedì vi ripeto todiboh è chiuso in chiusura copminers è chiuso bisogna solo aspettare che arrivino materialmente i soldi alla juventus e retegui è una suggestione più che una suggestione attenzione a questa possibile trattativa mi raccomando tenete gli occhi aperti seguite sempre il globo toscano fino alla fine forza juve fino alla fine globo toscano perché il globo toscano siete tutti voi stasera ore 21 e 30 super live con ospiti mi raccomando è già impostata quindi potete già andare a mettere like già andare a scrivere il vostro primo messaggino potete fare tutto quello che volete condividetela soprattutto mi raccomando ciao ragazzi a più tardi e buona giornata